Il nostro atelier Fede Morgana è stato scelto anche quest'anno per realizzare l'abito per Miss Universe Italy per la sfilata dei costumi nazionali. Abbiamo trasformato in realtà l'idea della Miss Carmen Panepinto rappresentando la bellezza della conoscenza e l'evoluzione scientifica italiana. Ogni centimetro di questo abito racconta una storia dipinta su stoffa con cura in ogni dettaglio e realizzato in oltre 70 ore di lavorazione. Lo sguardo viene immediatamente rapito dal grande sole sulle spalle che rappresenta la luce della ragione che illumina le grandimenti del passato e del presente. È creato con centinaia di metri di nastro di raso e paillettes. L'abito è elegantemente nero con decori oro a contrasto che aggiungono una preziosa aura di maestosità. Ispirato al 1700 il corsetto è un omaggio all'eleganza delle epoche passate ma con un tocco di modernità che lo rende unico. Realizzato in velluto nero e steccato in acciaio. Se guardate attentamente scoprirete che piccole luci a led sono incassonate nel pizzo dipinto al centro davanti creando un effetto magico ed incantevole. La gonna è una cascata di stoffa fluttuante e un viaggio attraverso elementi brillanti e di progressi che l'umanità ha compiuto nel corso dei secoli. È realizzata in tulle ed organza di seta nera con pannelli dipinti a mano ognuno dedicato ad un campo scientifico diverso. Il primo un tributo alle innovazioni di Leonardo da Vinci il genere rinascimentale che ha affascinato il mondo intero con la sua mente visionaria. Il secondo pannello un omaggio alle neuroscienze ci ricorda di quanto sia complesso ed affascinante l'intreccio dei neuroni che danno vita al nostro pensiero e dalle nostre emozioni. Il terzo pannello invece celebra l'ingegneria aerospaziale una disciplina che ci ha portato a esplorare le stelle ed oltre. Il quarto pannello è un saggio di formule matematiche che illuminano e guidano il progresso della nostra civiltà. Ed infine l'ultimo pannello rappresenta il progresso della tecnologia attraverso una rete di circuiti elettronici. Questo abito è molto più di un semplice vestito, è una dichiarazione udace della nostra passione per la scienza e l'innovazione. È la rappresentazione di quell'eterna sete di conoscenza che ci spinge sempre a guardare oltre, a superare i nostri limiti e ad osare e sognare in grande. Quella luce dell'intuizione geniale che ci porta lontano dal buio dell'ignoranza. Quando Miss Universe Italy ha sfilato in passerella con questo abito, ogni sguardo è stato rapito dalla sua bellezza e dalla sua eleganza, ma più importante di tutto ci ha ricordato che la scienza e la conoscenza sono le vere stelle che illuminano il nostro cammino verso un futuro migliore. Visita il nostro sito fedemorgana.com per scoprire tutte le nostre creazioni sartoriali.